Dimentichiamoci la risonanza magnetica tradizionale con paziente disteso per un esame rivoluzionario capace di esaminare la colonna vertebrale e le articolazioni in posizione verticale tenendo conto del peso corporeo. La risonanza magnetica in piedi fornisce informazioni che un'apparecchiatura tradizionale non è in grado di dare. Centro medico Cairoli, il 45esimo centro diagnostico nel mondo a dotarsi di G-Scan Esaote. Centro medico Cairoli, abbiamo cura di te.